Prima vittoria in campionato per il Mozzanica che supera in rimonte al Cuneo. Il primo brivido è il diciottesimo quando Pierone prova a girare il cross teso di Scarpellini. Al ventisesimo tocca a Giacinti ma l'attaccante di casa non riesce a impegnare Ozimo. Un minuto dopo Pierone prolunga per Baldi che prova ad incrociare sul secondo palo. Il diagonale esce di poco alato. Dall'altra parte il Cuneo passa in vantaggio. Sodini impegna Gritti direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Il portiere del Mozzanica respinge corto e sulla palla si avventa Sandy Jannella che porta avanti il Cuneo. Gol dell'ex per la giocatrice proprio di Mozzanica e Torres che arriva al trentesimo. Subito reazione delle padrone di casa con Stracchi per Giacinti che gira di prima intenzione. Conclusione centrale che il portiere ospite blocca. A otto dalla fine di tempo Giacinti recupera la palla e serve un pallone d'oro Stracchi che non riesce a imprimere forza e Ozimo respinge. Nella ripresa il Mozzanica trova la rete del pareggio dopo tre minuti. Fusar Poli serve Sara Baldi che da dentro l'area batte Ozimo per il gol dell'1-1. La risposta delle ospiti arriva al decimo con la gran botta di Jannella da fuori aria sulla quale Gritti vola a deviare in angolo. Al ventesimo Giacinti serve Scarpellini che si defila ma riesce comunque a far partire un tiro che impegna Ozimo. Alla mezz'ora Sara Baldi pesca il jolly con un grandissimo gol di sinistro. Palla che si infila alla destra del portiere del Cuneo. Probabilmente uno dei gol più belli di giornata. Sì, sono contenta che la squadra ha vinto, è merito di tutte, abbiamo dimostrato di avere carattere e di sapere ribaltare una partita. Al 34esimo il Cuneo replica Oliviero dalla destra crossa per Sara Kama che gira benissimo di testa. La palla esce di pochissimo. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi con il successo per 2-1 del Mozzanica che centra la prima vittoria. Abbiamo giocato in un campo difficile contro un avversario forte, dobbiamo sempre ricordarci da dove arriviamo. Due anni fa quando venivamo qua prendevamo quattro schiaffi e andavamo a casa, oggi non dico che ci avevamo giocate armi pari ma quasi. Secondo me oggi serviva proprio una prestazione di carattere e penso che quello l'abbiamo dimostrato e quindi siamo molto contenti.